cari amici bentornati questa sera andremo a parlare di un sito molto 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 interessante ma prima vi ricordo di farvi un giro sul mio canale per andare a scoprire gli altri video che ho postato ci sono video molto interessanti quindi fatevi un giro non ve ne pentirete mi raccomando poi fate l'iscrizione anche al canale per rimanere sempre aggiornati e informati su tutte le novità che ci sono benissimo andiamo a vedere di cosa si parla questa sera questa sera parliamo di coin gratis an il sito si presenta così al l'apertura dobbiamo cliccare su register e dobbiamo inserire user name una mail valida e il bitcoin address di fauce tab poi la password conferma password fauce tab per chi non lo conoscesse è questo sito qui ve lo faccio vedere allora vado la dashboard benissimo abbiamo tutte queste cripto valute a disposizione e all'interno di questo sito ci sono veramente veramente una marea di fauce tab disponibili fatti se a parlano sbagliato se clicchiamo su sites mi pare ecco qua suddividono praticamente per cripto valuta tutti i vari fauce disponibili come vedete si può entrare e visitarli ognuno ognuno darà una rendita differente quindi bisognerà scoprirle uno per uno vedete bitcoin se clicco su ethereum ce ne sono altri monero ce ne sono altri e via dicendo per tutte queste monete benissimo quindi fauce tab è sia un wallet quindi un portafoglio dove tenere i nostri le nostre cripto valute vi faccio vedere che io ho qualcosina al momento ho qualcosina di bitcoin poca roba qualcosina di litecoin e dogecoin e bitcoin cash quindi vabbè non ho non ho molto anche perché sto lo sto usando veramente poco con i fauce ma prevalentemente per il mining come vedete qua infatti sono a livello 55 faccio vedere vado nella sezione mining allora in questa sezione praticamente se clicco start parte il mining qua posso impostare praticamente quante cpu voglio dedicare all'attività di mining e qui invece imposto il tempo per il quale ogni mezz'ora farà una pausa per far riposare i processori quindi ogni norma tengo 5 minuti ogni 30 minuti di mining come vedete essendo arrivato al livello adesso non mi ricordo 55 mi pare ho un bonus di del 2,75 per cento più si sale di livello e più questo bonus aumenta quindi praticamente oltre al ai guadagni del mining ci verrà dato un ulteriore bonus inerente a quanto abbiamo minato questa è una breve spiegazione di fauce tab se avete qualche domanda da farmi non non fatevi problemi scrivete nei commenti vi lascerò anche il link per iscrivervi a fauce tab è un wallet un po particolare appunto perché ha veramente un sacco ma veramente tantissimi fauce suddivisi per le varie cripto valute torniamo su coin gratis an io ovviamente faccio il login perché sono già iscritto ci chiede di risolvere il capsca ci si apre una pagina che andiamo a a chiudere attendiamo che ci esca il codice a non non calcola le maiuscole le minuscole quindi potete scrivere come volete una volta scritto il codice clicchiamo su return to page e clicchiamo su login e siamo entrati la prima cosa che ci appare è questa pagina qui praticamente ci sono le varie cripto valute per le quali possiamo fare un claim ma noi che che siamo pigri andiamo direttamente sull'auto fauce l'unico problema è che non c'è bitcoin nell'auto fauce però vabbè possiamo usare altre monete quindi cosa succede che praticamente io adesso voglio fino adesso ho minato ho raccolto litecoin e dogecoin voglio raccogliere un po di ethereum però non ho impostato il wallet di ethereum quindi cosa faccio vado su fauce tab clicco su wallet addresses scendo vado a cercarmi ethereum come vedete mi copio l'indirizzo torno su coin gratis and clicco su wallet e vado a impostarmi l'indirizzo di ethereum ovviamente quello di fauce tabs altrimenti il ritiro non funziona salviamo molto bene back to dashboard andiamo a cliccare l'auto fauce di ethereum e vediamo cosa succede abbiamo a disposizione 100 claim al giorno per ogni cripto valuta quindi adesso vado a cliccare su start questo lo possiamo anche chiudere l'auto fauce è partito e praticamente come vedete è impostato su autoclaim e mi da 100 claim ancora a disposizione e farà tutto in automatico adesso rimaniamo in attesa un attimino per vedere appunto che passa a 99 si fa fa tutto da solo fa l'auto refresh quindi non non dobbiamo preoccuparci assolutamente di di nulla e cosa importante possiamo tranquillamente lasciare la pagina aperta e dedicarci a qualsiasi altra cosa che stiamo facendo senza che l'attività di autofauce venga interrotta vediamo tra poco sarà passato il minuto e quindi vediamo cosa succede benissimo vedete qua si è aggiornato si è aggiornata la pagina ha fatto un refresh l'auto claim è a 99 ogni tanto ci sia importante dovete disabilitare i vari ad block le estensioni per per bloccare le pubblicità purtroppo ce le dobbiamo beccare però giustamente anche loro ci devono guadagnare qualcosa e quindi accettiamo anche qualche pubblicità ogni tanto però comunque in linea di massima adesso lo posso lasciare aperto senza considerarlo più e non mi si aprirà alcuna pagina quindi non non c'è nessun problema torniamo un attimino su fauce tab anzi no scusate vi faccio vedere una cosa figa io adesso in questo momento 6024 light litoshi pardon e non c'è un minimo del ritiro quindi io posso ritare ritirare qualsiasi cosa voglio e il ritiro è assolutamente istantaneo quindi vado a cliccare su withdraw l'indirizzo di lightcoin adesso me lo copio e tra poco capirete perché quindi mi fa un resoconto dell'indirizzo su cui andrà effettuato il deposito e l'importo e dice che praticamente non abbiamo alcuna tassa di transazione quindi quello che ritiriamo praticamente ci ritroviamo su fauce tab quindi vado a cliccare withdraw mi dice che il withdraw è stato effettuato con successo e allora a questo punto torno su fauce tab e vi faccio capire perché ho copiato il l'indirizzo di light coin perché se io vado su check balance in questo momento inserisco l'indirizzo clicco su check stats e come vedete coin gratis an mi ha pagato 6024 satoshi in questo momento quindi il pal il pagamento è praticamente istantaneo e non c'è un minimo di ritiro quindi praticamente noi cosa facciamo andiamo ritorniamo sulla dashboard innanzitutto ritorniamo su wallet addresses allora praticamente fauce tab è un wallet un po particolare perché perché ci fa parcheggiare degli indirizzi di altri wallet quindi praticamente io potrei fare per esempio la prima cosa che mi vado vado su spectro coin per esempio mi copio l'indirizzo ok torno su fauce tab metto link seleziono la moneta in questione e faccio link dis addresses quindi praticamente io vado a parcheggiare permettetemi il termine il l'indirizzo di un altro wallet su fauce tab molto semplice bene su coin gratis siamo a 95 si aprono pagina a caso a ritorniamo a vedere un attimino il sito se c'è qualcosa ancora da da guardare si può fare anche il mining quindi praticamente mi seleziono la moneta in questione seleziono quante cpu voglio dedicare al mining infatti come vedete una volta che cambio il numero di cpu mi cambia anche la quantità di hashish a disposizione e anche il guadagno quindi basta poi cliccare su process e parte il mining vediamo exchange questa è una cosa molto interessante perché praticamente nel momento in cui io con l'auto fauce vado a racimolare poche monete ma su tanti cioè poche monete ma tutte diverse io cosa posso fare posso andare per esempio ad accumulare tutto in bitcoin o tutto in un'altra moneta in modo tale che mi ritrovo una cifra un po più consistente quindi basta semplicemente in questo caso io ho 22 satoshi copio metto l'importo qui lo voglio trasformare in litecoin faccio calcola ah praticamente mi dice che ricevo 0 perché sono troppo pochi vabbè io faccio comunque effettivamente 22 satoshi sono pochissimi procedo comunque vediamo se succede comunque qualcosa e infatti si non mi fa continuare perché mi dice che sono a 0 vediamo se con i dogecoin ma dubito perché anche dogecoin sono pochissimi però nel frattempo vi sto facendo vedere il il proprio il procedimento perlomeno li converto in litecoin faccio calculate no mi rimane ancora 0 quindi niente va bene il sito la ha un'altra cosa praticamente in base a allora se clicchiamo su bonus ci dice che praticamente da 0 a 100 claim fatti ci da il bonus cioè non c'è bonus quindi è allo 0 per cento da 100 a 250 claim ci da l'1 per cento di bonus in più quindi praticamente iniziamo a guadagnare un po di più rispetto a quello che prendiamo e via discorrendo praticamente 200 da 250 a 500 ci da 2 per cento 3 per cento 4 per cento fino arrivare al 20 per cento non ho altro da aggiungere se non quello se non che dirvi di iscrivervi al canale mi raccomando lasciatemi un like se il video vi è piaciuto se volete se non avete capito qualcosa potete tranquillamente scrivermi nei commenti io vi lascerò il link per iscrivervi a coin gratis e anche a fauce tab se avete bisogno ci sono ragazzi con questo è tutto ci vediamo alla prossima ciao ciao